Perdonate l'abbigliamento o se, ma ragazzi fa un caldo di quelli esagerati, di cosa voglio parlare oggi? No, quello non è il vostro schermo che è sporco, è un buchino, dico a tutti i video, che devo fare a tappare? Non mi vado a farlo a tappare, ciao bella a tutti e a me, di cosa dobbiamo parlare? Non tanto dell'amichevole che oggi la Roma ha giocato col Trastevere, col Valanghe, quello e quell'altro, perché c'ha veramente poco senso, il divario tecnico, tattico tra le due squadre sta su tutt'altro livello, ma vorrei soffermarmi su un giocatore che voleva, anzi che vorrebbe andare via da Roma ma che attualmente ragazzi si sta comportando da professionista serio e mi permetto di dire che non è cosa scontata al giorno d'oggi, soprattutto se pensiamo a un altro giocatore che voleva assolutamente andare via e che c'ha avuto un comportamento con i tifosi e con la società abbastanza vergognoso. Di chi sto parlando e a chi altro mi sto riferendo, sto parlando di Edin Dzeko ovviamente che vorrebbe andare via, vorrebbe andare all'Inter, ci ricordiamo come sì, per carità, è tornato a Roma, è tornato con una faccia un po' da mucco, da pippa, un po' un cazzato perché dice me ne vorrei andare, non voglio più restare qui, vorrei andare all'Inter, me sento un pesce fuor d'acqua. Poi però si è messo sotto, ha fatto le visite mediche, ha iniziato ad allenarsi e lo ha fatto con una professionalità che secondo me ragazzi al giorno d'oggi veramente è una cosa difficilissima da trovare. Prima mi riferivo ad Antoine Griezmann ovviamente, voleva assolutamente la cessione, che cosa ha fatto? Non si è presentato agli allenamenti con l'Atletico Madrid, ha fatto pervenire un certificato medico alla società in cui diceva sono stressato, oddio, oddio, sono stressato, l'atteggiamento permettetemi di dire che a mio modo di vedere è veramente poco professionale, a prescindere che te ne vuoi andare, vuoi cambiare aria, tutte presenti, ti alleni e poi quando la società che ti vuole accaparrare risolve la questione, in quel caso paga la clausola recissoria, allora tu dici mi dispiace ma da oggi non sono più un vostro giocatore, ho intenzione di andare via perché ho fatto questa scelta, però la mattina ti svegli con la consapevolezza che sei un professionista, vieni pagato fior fior dei milioni di euro e che anche se non vuoi restare in quella realtà, comunque continui ad affrontarla fino all'ultimo, quindi secondo me ragazzi ed ingeco veramente un applauso, 90 minuti d'applausi, 92-93 quello che è quello che diceva il film De Fantozzi, professionista serio, a prescindere da come andrà, poi magari se ne andrà non me ne può fregare di meno arrivati a sto punto, ma io spero che resti, adesso vi spiego anche perché, però intanto il suo fino all'ultimo l'ha fatto, stiamo parlando di amichevoli che non contano assolutamente nulla, però lui si sta allenando veramente testa bassa e pedalare, sarebbe difficile sostituire ad ingeco perché comunque l'Inter mi pare che vuole offrire una decina di milioni e massimo credo che il valore del mercato del giocatore visto che gli escade il contratto a giugno, 12-13 milioni di euro, ma chi ce vai a piacere come sostituto di ed ingeco a 12-13 milioni di euro in rapporto qualità-prezzo, sarebbe veramente difficile sostituirlo e comunque anche se fai un investimento importante e spendi 40 milioni di euro e capace che ti arriva il nuovo Iturbe, ogni riferimento a Schick è puramente casuale, e tu ti ritrovi là davanti bloccato con giocatore che non riesce a sbloccarsi e a mettere la palla in rete, quindi a me non dispiacerebbe qualora restasse, spero che Fonseca possa convincerlo, parere mio, dovesse arrivare all'affondo finale da parte dell'Inter, dovesse offrire 13-14-15 milioni, ovviamente la volontà del gioco sarebbe quella di andare via senza pensarci un attimo, però intanto sta da noi, fa quello che deve fa e a me sto atteggiamento mi piace veramente tanto, quindi mi piace, commentate, condividete iscrivetevi al mio canale, qualora non lo aveste ancora fatto, vi ricordo di seguirmi sui miei profili social Instagram e Telegram e di attivare la campanella a fianco al tasto iscriviti, se no non vi arriveranno mai i miei nuovi contenuti, vi arrivano molto raramente, quindi se volete restare aggiornati iscriviti e campanella a fianco al tasto iscriviti. Voglio sapere il vostro parere nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate del comportamento del Dzeko, del comportamento del Griezmann, ma del comportamento in generale di tanti altri calciatori che quando vogliono andare via si impuntano e non gliene frega più niente della tifoseria, della società in cui in quel momento stanno e pur di andassene non guardano in faccia a nessuno. Detto questo, alla prossima con un nuovo video, Ergabone vi saluta, ragazzi miei, sono spellato, sì lo so, sono spellato il mare, mi ha rovinato veramente la vita. Alla prossima, bella a tutti!